Amici di Mondoasi, nuovo appuntamento con La trasmissione dedicata al motorismo storico firmata ASI. Siamo a Campobasso quest'oggi per raccontarvi in primis cos'è accaduto all'undicesima edizione della Targa del Matese e poi come al solito vi presenteremo una serie di servizi raccolti qua e là sulle strade della nostra penisola. All'edizione 2018 della Targa del Matese organizzata dal Classic Car Club Molise hanno partecipato una quarantina di autostoriche provenienti da tutta Italia. Lasciato il Corso Vittorio Emanuele di Campobasso, vero cuore pulsante della cittadina molisana, le autostoriche sono andate alla scoperta, accompagnate e indirizzate da un attento radar, delle bellezze paesagistiche della terra ospitante in pieno spirito ASI dove storia, cultura, tradizioni enogastronomiche si mescolano, si miscelano tra di loro per offrire un weekend da ricordare. Naturalmente poi ci sono sempre i confronti con il cronometro sui presostati ma questo è un altro discorso se vogliamo addirittura marginale. Fiore all'occhiello di quest'undicesima edizione è stata la visita alla Morgia, uno sperone roccioso alto 55 metri i cui reperti ceramici ritrovati consentono di fissare l'origine dell'abitato, i vi insediato, ai primi secoli del basso medioevo. Nel pomeriggio ancora storia e cultura attraverso un percorso variegato sempre molto guidabile e poi gli annunciati confronti con il cronometro. Sentiamo il presidente del club Pietro Gabrieli. Fermo restando la partecipazione di nuovi equipaggi che per la prima volta vediamo nel Molise, noi continuiamo a tenere prioritario il discorso culturale e storico. C'è un aspetto agonistico, diciamo competitivo, però prevale sicuramente l'aspetto turistico, l'aspetto paesaggistico di questa nostra regione. Per la cronaca ha vinto l'equipaggio Baviera Bramanti su Fiat 11103, successo annunciato già alla vigilia, successo che va a bissare quello ottenuto nell'edizione 2017.